Una parte dei pomodori raccolti è già in lavorazione, ma in alcuni campi come questo, che si trova nel comune di San Pietro in Cerro, la raccolta non è ancora partita e molte piantine sono ammalate o seccate. L'annate è difficoltosa purtroppo anche per il pomodoro, soprattutto per i pomodori precoci, c'è stata una diminuzione di produzione del 50% rispetto all'anno scorso, se non di più, e quindi a livello proprio agronomico, ma anche di fabbriche, ci sono dei grossi problemi quantitativi. Noi la facciamo per la mensa, per il consumatore che vuole farsi la passata a casa, quindi lo raccogliamo a mano e scegliamo ovviamente i campi migliori che i nostri soci hanno nelle loro aziende. Questa è la situazione per il pomodoro della cooperativa produttori Aglio Piacentino, ma la crisi riguarda tutto il comparto. Nel 2023 il pomodoro da industria rendeva 70 quintali apertica, nel 2024 si parla di 20 quintali. L'acqua ha fatto dei danni, ha fatto dei danni notevoli, sinceramente cose così non si sono mai viste, quindi magari i primi trapianti dove il pomodoro non ha lavorato come doveva lavorare, quindi ha coperto bene le bacche, con questi caldi si sono scottati, e quindi ci sono dei campi che non raccoglieremo per la mensa, ma raccoglieremo poi per l'industria perché il pomodoro si è scottato. Uno di questi è appunto il mio, che una parte non andrà raccolto a mano, ma raccolto con la macchina. Qui la raccolta non è ancora iniziata, invece in altri campi sì, alcuni pomodori sono in lavorazione, quali sono i prossimi passaggi, le tempistiche quali sono? Allora noi adesso stiamo raccogliendo, noi abbiamo un periodo di tempo che va tutto agosto come cooperativa per portare poi il pomodoro alla grande distribuzione, sta accadendo, altri soci non hanno avuto il problema che ho avuto io nel primo trapianto, quindi stanno raccogliendo, io poi raccoglierò nei prossimi trapianti e la cosa andrà avanti tutto agosto fino all'inizio di settembre, fin tanto che la gente farà la conserva a casa.